Acquista i migliori prodotti di telefonia. Visita Mondotel a Marina di Camerota. Scopri le offerte di telefonia a prezzi scontati dei migliori brand. iPhone, Samsung, Huawei, Redmi. Inoltre da Mondotel puoi trovare un'ottima selezione di accessori smartphone come caricabatterie, auricolari, power bank, schede di memoria, i-fi, piccoli elettrodomestici, idee regalo, ricariche telefoniche e naturalmente il servizio assistenza. Mondotel di Concetta Giudice. In via Lungomare Trieste a Marina di Camerota. Infoline 0974 37 96 36. E-mail mondotelmarinachiocciolagmail.com